ciao ragazzi benvenuti siamo su play now battleground siamo nella modalità one mode siamo in una mappa con la pioggia siamo in 43 persone è un team deathmatch della modalità one mode con delle armi particolari che adesso non so se ha messo solo cerchini oppure fucili da satto non lo so ragazzi che come sta modalità comunque siamo 45 anzi 43 persone in un cerchio piccolissimo adesso faccio vedere guardate siamo in un cerchio piccolissimo io ora me ne vado qua sopra in quel punto lì vediamo un po vediamo un po ragazzi il problema ragazzi che non ho visto che era in terza persona a me non piace terza la terza persona però mai abbiamo saltato in questo modo purtroppo c'è la pioggia che è assordante ragazzi e non si capisce niente ma vediamo un po se riusciamo a fare tante kill e arrivare tra arrivare tra i primi posti magari nella top five poi vai così non è facile su 43 persone ragazzi non è facile ma siamo con il cecchino ragazzi siamo con il cecchino quindi direi di cambiare zona di cambiare zona magari ci andiamo qua sopra ragazzi mi sa che ho fatto un errore però no sono tutti qua sono tutti qua devo cambiare zona devo andare in quella casa lì andiamo ad ammazzare questo se riusciamo c'è poi così è ma ragazzi mi sono finito le munizioni no è volevi no no vai dai ma che cazzo ho sbagliato a buttare la granata ok 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 è scombato Sì aspettate ragazzi che ce n'è uno qua vicino ma ok sono terzi in classifica ragazzi ancora non sono morto eccolo no ma come ho fatto ucciso no no voglio ammazzare questi ok ragazzi scusate se la telecamera è spostata ma un inizio davvero bello ancora non sono morto neanche una volta ce n'è uno qui dov'è è dentro casa è dentro casa dai ma la granata dai ma come fa a non morire è morto è morto è morto con la granata ho bisogno di munizioni ma qua ce n'è uno ciao oh ragazzi ma che cosa sto facendo ok ho bisogno di munizioni questi qua ok ragazzi non sono morto neanche una volta ancora qua ce n'è uno qua ce n'è uno penso di averlo il tato ah ha fatto bene ragazzi mi ha buttato la granata ha fatto bene ha fatto bene ragazzi è giusto non devo stare lì ragazzi non devo stare lì assolutamente devo andare assolutamente in questa casa qui devo uccidere questo qua che mi ha ammazzato ah qua ce n'è uno aia ah 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 Grazie a tutti. Oh, l'ho ucciso. C'è sopra un altro, eh. Ce n'è uno laggiù. Eccolo, ma... Ma perché la telecamera si sposta, ragazzi? È incredibile. Oh, what? Cazzo, ragazzi. Mi hanno beccato. Eh, dopo... Ma da dove spara questo qui? Eccolo. Ciao. Andiamo a prendere la sua roba. Partita terminata. Non ci credo, ragazzi. Partita terminata. Eh... Siamo arrivati i sessi. Su 43 persone. Sono morto sottanto... Una volta sottanto, ragazzi. 10 kill. 10 kill, ragazzi. Qualcosa di assurdo. Comunque ho fatto tante kill con la pistola. Eh... Ragazzi, che vi devo dire? Bellissima partita. Bellissima partita. Va bene, ragazzi. Per questo episodio è tutto. Sono arrivato sesto. Purtroppo, ragazzi. È finito il tempo. Non sono riuscito a recuperare. Su 43 persone sono arrivato sesto. Che non è male. Comunque, ragazzi. Ogni tanto ci sta per staccare dalla... Da solito battle royale. Ho voluto fare questa modalità. E, ragazzi. Mi sono divertito tantissimo. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Commentate in tanti. Iscrivetevi al canale. Eh... Ci becchiamo. Alla prossima. Ciao a tutti. Ah, vi raccomando, ragazzi. Andate a guardare anche... Eh... Gli ultimi episodi... Eh... Di World of... Warship. Un gioco di battaglia navale. Con le navi. È davvero fantastico quel gioco. Quindi, ragazzi. Andatelo... Andate a guardare quel video. Che è davvero bello. Ne ho fatto più di uno. Ho fatto due video su quel gioco. E anche altri giochi, ragazzi. Nuovi. Cioè, mi scoccio a portare sempre i giochi FPS, ragazzi. Ci sta ogni tanto portare un gioco MOBA. Eh... Ragazzi. Andate a guardare. Eh... Vi metterò il link in descrizione. Degli ultimi video che ho... Che ho fatto. Eh... Ragazzi. Ci becchiamo. Alla prossima. Ciao a tutti.